Stanco delle lunghe attese e delle code interminabili, europoste, servizi integrati, in via Montefusco 13, alle spalle delle poste centrali, a Cava dei Tirreni. Tutto pronto per l'anteprima primaverile della podistica internazionale San Lorenzo. Infatti in attesa della gara, organizzata dal gruppo sportivo canonico San Lorenzo in sinergia con il comitato cavese del centro sportivo italiano che si terrà quest'anno il 30 settembre, nel mese di maggio sono in programma due appuntamenti riservati alle scuole. Presentati questa mattina a Palazzo di Città. Il primo è la sedicesima edizione di Aspettando la San Lorenzo, manifestazione che il 4 maggio, a partire dalle 9, allo stadio Simonetta Lamberti, coinvolgerà numerosi studenti delle scuole medie cavese e non solo. Il messaggio di queste attività collaterali che noi organizziamo già da diversi anni è il messaggio di avvicinare i giovani allo sport. La prima manifestazione si terrà venerdì 4 maggio allo stadio comunale e è riservata ai ragazzi delle scuole medie con la partecipazione di tutti gli alunni delle scuole medie di Cava di Tirreni e con la partecipazione della Fresa Pascoli di Nocera Superiore ed è l'istituto comprensivo Carlucci di Balvano. E a questa manifestazione si aggiunge anche la partecipazione dell'associazione della Rondine che faranno formazione loro ai bambini che parteciperanno alle gare. Il 10 maggio invece, sempre allo stadio Simonetta Lamberti alle 16.30, è in programma la 31esima edizione del concorso scolastico Memori all'Antonio Ragone, intitolato alla memoria dello storico presidente del gruppo sportivo Mario Canonico San Lorenzo. La manifestazione vedrà protagonisti i bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari cittadine. Il tema di quest'anno sarà Corriamo insieme in un arcobaleno di colori dove tutti i circoli didattici partecipanti comporranno una scenografia al centro dello Stato Mando Erbose e Simonetta Lamberti con la partecipazione di circa 600 bambini. Un grande grazie veramente di cuore a tutte le dirigenti ma anche a tutte le insegnanti che hanno sposato appieno e sposano oramai da 31 anni questo progetto e che abbiamo programmato, hanno programmato insieme a tutta la dirigenza della Canonico San Lorenzo prima hanno scelto il tema e poi stanno preparando tutti i vari lavori da presentare poi allo stadio a partire dalle 16.30 del 10 maggio. Presente alla conferenza anche il vice sindaco di Cava de Tirreni nonché assessore allo sport Enrico Polichetti. Oramai la bodistica San Lorenzo è giunta alla sua 57esima edizione un evento importantissimo per la città direi uno dei più importanti eventi che abbiamo nel nostro cartellone anche nel cartellone sportivo non è solo un evento sportivo ma soprattutto di promozione del territorio culturale, educativo siamo orgogliosi di far parte fra gli organizzatori che già dall'anno scorso abbiamo chiesto di farne parte in prima linea di non stare alla finestra e quindi di lavorare energicamente in sinergia insieme al comitato tutte le iniziative che ci sono da un rollario vicino veramente fanno sì di avvicinare i giovani allo sport soprattutto dalle scuole elementari i giovani delle scuole elementari i bambini delle scuole elementari i giovani delle scuole medie avvicinarli allo sport questo dovrebbe essere un impegno di tutti è un impegno di tutti